Tornano per il sesto anno ad Arezzo i ragazzi americani dell'Oberlin Conservatory of Music. Il loro programma propone un'estate ricca di appuntamenti musicali che si svolgeranno in città e in provincia. Il primo concerto si terrà giovedì 14 giugno alle 21 presso la Casa Museo Ivan Bruschi, mentre venerdì 15 giugno alle 21 in Piazza San Francesco si terrà una serata americana dove i ragazzi si esibiranno su brani tratti da musical. Per tutti voglio ricordare il 26 e il 27 giugno, qui proprio nel Palazzo Municipale, uno dei pezzi più interessanti del trittico di Puccini, il Gianni Schicchi, che è proprio l'opera fiorentina, l'opera toscana per eccellenza. Schicchi rappresenta la furbizia, la sagacia toscana e l'opera rappresenta la toscana nel mondo della lirica. La Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Siena ha accolto 70 studenti americani e 20 direttori artistici che parteciperanno ad un corso di 5 settimane nel quale, oltre a preparare concerti di musica lirica, amplieranno la loro conoscenza della lingua e della cultura italiana. È un piacere di essere qui, di essere ospitata dalla città, dal comune e anche dall'università. Loro imparano l'italiano, fanno la cultura giusta italiana per tanto e fanno concerti per eserbici. Loro imparano come si fa, deve fare giusto la lingua. Grazie.